Geppi Cucciari si è affidanzato a raccontarlo a Il Settimanale Oggi che, annunciando la novità sentimentale della conduttrice di Rai 3, pubblica le foto che la mostrano accanto a Marco, un imprenditore che secondo alcuni a raccontarlo a Il Settimanale Oggi che, annuncia come madrina della giornata di chiusura della Festa del Cinema di Roma il 28 ottobre, Cucciari è stata vista passeggiare nella capitale con il compagno con cui ha alloggiato in un albergo in centro. Come madrina della giornata di chiusura della Festa del Cinema di Roma, la serenità è ban visibile sul volto della conduttrice che nel 2016 ha divorziato dal marito Luca Bonaccorsi dopo quattro anni con polemiche a mezzo stampa. La serenità è ban visibile sul volto della conduttrice che nel 2016 ha un'altra Geppi più indifesa che ha voglia di essere accompagnata e non solo di accompagnare, aveva confidato a Oggi qualche mezzo. Un desiderio che adesso sembra proprio essere stato Grazie.